L'1 Bahia del Circeo, Roberto Muscolini, il 2 Bomberman, Giampaolo Minucci, il 3 Vicino Mec, Gennaro Amitrano, il 4 Uregano del Pino, Maurizio Kelly, il 5 Bramante Orsa, Antonio Di Nardo, il 6 Breeding Demi, Enrico Bellei, il 7 Astecca Dimar, Alessandro Olezzo, da solo in seconda fila con l'8 Verigioi con Vincenzo Gallo. Allineamento che va a completarsi, leggermente discosto Astecca Dimar che rinuncia al lancio. Parte molto forte all'esterno Breeding Demi, Mauragano del Pino lo contiene, i due scavalcano Bomberman, poi Bahia del Circeo. Insiste Breeding Demi, sta sopravanzando il leggero del Pino che preferisce agire di rimessa. Su Breeding Demi va a portarsi rapidamente Bramante Orsa, o almeno cerca di farlo avendo in scia Verigioi. Si è avviato con cautela vicino Mec che ora prende la scia di Bramante Orsa e Verigioi. Breeding Demi sullo strancio, completa il mezzo giro iniziale in poco più di 35 sul piede dell'1,10. Ora cerca di riprendere in mano Enrico Bellei ma comunque i 600 iniziali sono in 43,2. Bramante Orsa e gradatamente va al Salchi del leader avendo in scia Verigioi e vicino Mec che ha un piccolo contrasto con un altro concorrente. Si giunge al paletto in metà gara in 58,3 da parte di Breeding Demi in seguito sempre da Bramante Orsa che ha all'interno Uragano del Pino. Poi Verigioi, ancora Bahia del Circeo che affianca Bomberman anticipando vicino Mec che lascia in coda a stecca di Imar. Breeding Demi sotto il pressing di Bramante Orsa, poi Uragano del Pino e Verigioi. Poi Bahia del Circeo che si affaccia in terza ruota quindi Bomberman e vicino Mec ma Breeding Demi si difende ancora da Bramante Orsa. Poi Verigioi che sopravanza Uragano del Pino. È in vantaggio Breeding Demi quando siamo a 250 metri dal palo. Bramante Orsa per un attimo si è accodato nella sua scia, poi Verigioi e Bahia del Circeo. Verigioi in vantaggio, ritorna Bramante Orsa, ci prova Verigioi, ci prova Bahia del Circeo. I quattro avventaglio con Breeding Demi all'interno, Verigioi e Allargo che supera Bramante Orsa e poi Bahia del Circeo. Breeding Demi non si prende. Vince davanti a Verigioi e Bahia del Circeo. Percorso di testa in 1,56 secco sul mio cronometro per Breeding Demi e Enrico Bellay. I colori della scuderia Aerocolor per il figlio di Ideale Luis e Nolita Oerre. Le spinge sul percorso Bramante Orsa e sfugge poi a Verigioi e Bahia del Circeo che ottengono le migliori piazze proprio sul calo finale di Bramante Orsa. 681, l'arrivo ufficioso della sesta di Capannelle e la linea che può tornare allo studio. Grazie. Grazie.